Se la maggioranza si mostra soddisfatta per l'approvazione delle leggi, i 5 Stelle mostrano qualche perplessità. Si tratta di una legge che assolutamente stabilisce delle formulazioni generiche rispetto a quelle che dovranno essere le funzioni del comitato o la definizione degli strumenti che poi trova utilizzare il comitato per lavorare e poter effettuare la valutazione e il monitoraggio delle leggi. Mi riferisco alle clausole valitative, alle missioni valutative e i nostri emendamenti incidevano rispetto a queste definizioni o rispetto alla declinazione delle funzioni andando a specificare meglio quelle che sarebbero dovute essere. C'è stata la negazione rispetto a un parere negativo da parte dell'Aggiunta e la conseguente votazione negativa da parte dell'Aura rispetto a ogni formulazione che possa essere stata una riformulazione o un'aggiunta rispetto a quello che prevedevano gli articoli e quindi una chiusura totale. Si ha l'impressione di voler arrivare a Damo sostanzialmente con una legge blindata pur di portare a casa una legge e il nostro timore è quello che venga costituito un comitato assolutamente poi vuoto e che avrà le mani sostanzialmente legate rispetto alle funzioni che dovrà attuare.